Parto da Piller, a proposito di questi discorsi autostrade, Exil, Barcelor, Mittal... Fatemi dire due cose, ti permesso forse di contraddire un secondo al Presidente Maddalena. Nel 92-93 l'Italia l'ultima volta ha visto le crisi valutarie, non valeva più la lira, così nessuno poi comprava più titoli di Stato. L'Italia adesso con l'euro ha una base solida di moneta per tutte le attività finanziarie, perché senza una moneta stabile tutto è niente, così non vale nulla. L'Italia aveva voluto fortemente entrare nell'euro perché pensava che così aveva una base stabile e è stata salvata due volte in quel senso. Ciampi diceva che saremmo finiti come l'Argentina senza l'euro e anche, ricordiamoci, Monti era davanti a una situazione quando l'Italia stava andando verso un fallimento e l'Europa ha fatto sotto l'Italia una rete di protezione con questo fondo salva stati che poi ha dato fiducia insieme a Mario Draghi e così via. Sì, non dimenticando che Monti ha usato ricette, lacrime e sangue... Come il tedesco che prima di arrivare in Italia ha fatto così delle reportage dalla Germania dell'Est, così dalla Germania dell'Est che aveva appena fatto questa storia di economia di Stato e anche dopo aver visto la IRI, la EFIM e così via in Italia, posso dire che non è sempre una cosa ottima avere lo Stato imprenditore, abbiamo visto, lo Stato se non vuole entrare come imprenditore deve certamente essere bravo come regolamentatore, controllore anche, che fare il quadro delle regole del gioco e lì forse si potrebbe migliorare un pochino in Italia, diciamo così, perché se si fa bene le regole il mercato fa anche questo suo gioco che può fare, ma deve essere chiaro il libro delle regole del gioco e l'arbitro... Sì, poi ci vuole qualcuno che controlli che queste regole siano rispettate. Assolutamente.